musica bella a tutti ragazzi, ben ritornati nel mio canale, come promesso siamo su GTA 4 per il mistero e le curiosità e io tempo fa vi avevo detto che avrei fatto un episodio su GTA 4 in realtà mi sono reso conto che i misteri sono veramente tanti quindi probabilmente andremo per 2, 3, anche 4 episodi forse ma cosa? va bene boh si, ciao ehm... nulla ehm... come vi ricorderete dal video della mod di Iron Man siamo su pc quindi ho cercato di trovare il giusto equilibrio tra una buona grafica e poco lag ora la grafica non è chissà che cosa però gente io ho un pc di 5-6 anni ancora in mezzo alla strada stai, ma ti devi dare le palle o no? minchia e nulla, comincerai subito, vuol dire che... dato che la mappa è piuttosto... oddio mio vai vai ti alzi ancora? ok ehm... dicevo la mappa è abbastanza grande qui sul GTA 4 quindi ehm... probabilmente vedrete dei tagli ma comunque vi farò sempre vedere dove siamo così da farvi capire dove potrete trovare il mistero cominciamo subito con ehm... primo mistero che è il logo della Super GT guardate io entro vedete Super GT il... la curiosità sta nel logo dietro che se voi ci fate caso sembrano le quattro gambe gambe di donna aperte con... in mezzo vabbè nella scritta che... dovrebbe essere la casa produt... produttrice dell'auto mentre qua ragazzi dove mi trovo io ora non fate caso alla stradina verde comesso per il prossimo mistero ci troviamo qui per far... perché voglio farvi vedere sto negozio si chiama Curb Cravler e... diciamo questo termine sta a indicare coloro che vanno in cerca di prostitute quindi abbiamo una sottospecie di primo riferimento sessuale eh... in realtà non è altro che un negozio di skateboard su GTA ma la Rockstar gli piace giocare con questi doppi sensi comunque noi ci vediamo al prossimo mistero ok forse... minchia che culo ok ragazzi siamo fortunati nel senso che non sapevo dove trovare quell'insegna lì però ho avuto fortuna di trovarla quindi vabbè ve lo dico già che ci sono ehm... ecola sarebbe la marca di coca cola ehm... del gioco insomma di GTA solo che appunto ehm... come al solito i creatori di GTA hanno voluto ehm... fare questo collegamento con la... la loro ecola di GTA con la vera coca cola del gioco a proposito di questo ragazzi come si... aspettate cazzo non si può andare su internet col cellulare eccolo siiii ok ragazzi e sempre riguardo alle bibite come potete vedere c'è un distributore qui davanti a me della Sprank una bibita verde che sempre a causa di quei burloni ehm... di GTA ehm... praticamente non sarebbe altro che un collegamento alla bibita Sprite detto questo ehm... noi andiamo al prossimo mistero che è qui vicino mistero curiosità che è sempre qui vicino no... 10 fps spero che non si noti sto lag nel video perché sennò mamma mia proprio basta attraversare l'erba che si spawna a caso ok faccio vedere dove siamo ci troviamo qua sopra più precisamente qui dove c'è la mia freccetta perché devo farvi vedere questo ristorante Go Tsushi ehm... in realtà la pronuncia sarebbe mh... tramite un gioco di parole Go Tsushi e non è altro che un famoso ristorante a New York quindi abbiamo anche un collegamento a un ristorante di New York comunque corriamo veloce andiamo al prossimo mistero che si trova all'aeroporto bene ragazzi siamo qui all'aeroporto per un altro mistero come vi ho detto all'aeroporto per essere più precisi in questo punto sempre dove c'è la mia freccetta perché vi volevo far vedere questo cartello che ehm... ora a causa della grafica bassa non si legge però c'è scritto ehm... in poche parole attenzione alto voltaggio e cosa curiosa il fulmine sembra finire sui ehm... per non essere volgare sui genitali dell'omino comunque in caso si trovo vi posterò una foto dove si vede meglio e così magari capite meglio anche voi comunque ci rivediamo al prossimo mistero bene ragazzi ehm... come prossima curiosità ci troviamo un internet point per essere più precisi qui della freccetta perché volevo farvi vedere una cosa abbastanza ehm... no ho sbagliato tanto una cosa abbastanza curiosa che riguarda mh... le sigarette ora bisogna digitare il... mh... il nome del sito che è Redwood Cigarettes pronuncia mamma mia perfetta .com e si fa invio la cosa curiosa è che questo sito di sigarette di GTA è un palese riferimento a ehm... le Marlboro e cosa molto curiosa si può notare in alto a destra questa figura di cowboy che fuma e proprio ehm... un cowboy era usato per la pubblicità delle Marlboro ehm... negli Stati Uniti tant'è che questo cowboy venne... eh no ehm... sì tant'è che questo cowboy venne chiamato Marlboro Man e cosa abbastanza strana questo attore morì all'età di 51 anni proprio per cancro ai polmoni quindi mh... robe strane mettono su GTA collegamenti su collegamenti eh... comunque vediamo se ne abbiamo tempo ne facciamo pure un altro perché io non ho preso il tempo o comunque non so da quanto stiamo registrando quindi al limite ne farei ancora uno poi chiudiamo bene ragazzi siamo giunti all'ultima curiosità per oggi probabilmente vi faccio vedere dove siamo come al solito guardate la posizione della freccetta da un momento per capire dove siamo qui c'è l'aeroporto vabbè insomma è facile da localizzare vicino a sti pallini qua siamo qui vicino al negozio di DDR Sachs eh... in realtà questo negozio è un negozio d'abbigliamento eh... molto elegante molto costoso in GTA San Andreas qui sul GTA 4 eh... almeno da quanto mi risulta non si può comprare nulla e... ehm... cosa strana è anche il logo di questo DDR Sachs perché come potete vedere ricorda molto lo stile Dolce Gabbana boh ricorda molto comunque pare una scopiazzatura del loro logo e cosa un po' un po' più losca tra virgolette in questa immagine qua di pubblicità di 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 chiede attenzione domanda attenzione penso e c'è una donna che come dire aspettate si aggira nella zona ora non so se si capisce ora forse si capisce meglio mettete in HD schermo intero così capite sta girando nella zona genitale di un di un uomo vabbè voi pensate quello che volete pensare io non dico nulla non mi esprimo eh... comunque ragazzi ora non so quanto sia durato sto video spero non troppo spero non troppo tanto e non troppo poco io ora non so quando ne pubblicherò un altro perché eh... non è semplicissimo far sti video perché sinceramente non conosco tutte le zone di GTA 4 nel senso le conosco però non so dove trovare i negozietti eh... i negozietti tutti i punti con le curiosità quindi è un momentino un po' più difficile di GTA Vice City GTA San Andreas comunque noi ci vediamo al prossimo video qui da GTA 4 è tutto bella raga